Ciao a tutti e bentornati su LearnAmo! Se c'è un verbo che tutti gli stranieri vogliono utilizzare quando parlano italiano, quello è valere la pena. In effetti, siccome noi italiani lo utilizziamo molto spesso, per uno straniero usare valere la pena in un suo discorso fa sembrare subito molto più naturale il suo italiano. E fin qui tutto bene, siamo d'accordo, però il problema è che questa costruzione verbale è molto particolare, quindi molto facile da sbagliare. Ma vi svelo un segreto, valere la pena qualche volta crea difficoltà anche ad alcuni italiani. Per questo, in questo video, vedremo quali sono i 5 errori più comuni commessi dagli stranieri e da qualche italiano con valere la pena. Restate là! Innanzitutto, chiariamo una volta per tutte cosa significa questo verbo? Dunque, valere la pena significa essere vantaggioso, convenire, meritare l'impegno e lo sforzo che richiede. Ma adesso vediamo un po' questi errori. Di che cosa si tratta? Cominceremo da quelli un po' più comuni tra i principianti per poi passare agli errori che commettono anche gli avanzati e qualche italiano. Numero 1. È vale la pena. Un errore che noto abbastanza spesso tra i miei studenti è l'uso di vale la pena come se fosse un aggettivo e quindi con il verbo essere. Questo uso è completamente sbagliato perché la costruzione vale la pena ha già il suo proprio verbo, valere, quindi non ha bisogno di un altro. Perciò diremo, per esempio, un film vale la pena, viaggiare vale la pena, gli studi valgono la pena. Quindi, come potete notare, il verbo valere si coniuga in base al soggetto, cioè in base alla cosa che è conveniente. Se quello che è conveniente è già stato menzionato in precedenza e non vogliamo ripeterlo, possiamo utilizzare la costruzione valere la pena con la particella ne, che appunto fa riferimento all'oggetto ma ne evita la ripetizione. Ad esempio, pensi che dovrei guardare l'ultimo film di James Bond? Oh sì, ne vale assolutamente la pena. Secondo te gli studi di medicina sono una buona opzione per i giovani? Sono duri ma ne valgono la pena, sicuramente. Errore numero 2, valuto. Un altro degli errori più comuni con valere la pena riguarda il participio passato del verbo. Infatti, sento spesso dire cose come ha valuto la pena. Ebbene, è sbagliato. Infatti, il participio passato del verbo valere è valso e questo ci porta subito a parlare di un'altra questione, di un altro problema, strettamente collegato a questo. Ha valso o è valso? Cioè, il verbo valere prende l'ausiliare essere o avere nei tempi composti, come per esempio il passato prossimo? Bene, nella costruzione valere la pena, il verbo valere prende come ausiliare essere. Ma vediamo un po' come si può utilizzare in contesti reali. Se il soggetto, cioè se la cosa che è conveniente, è presente nella frase, il verbo valere concorderà con lui. Per esempio, quel viaggio in Thailandia è valso la pena perché ci ha permesso di scoprire nuove culture. Oppure, tutti i miei sacrifici sono valsi la pena perché mi hanno permesso di essere qui. Come notate, in questo caso, ho usato sono valsi perché, come dicevo prima, valere concorda con il soggetto che in questo caso è i sacrifici. Probabilmente, però, la costruzione valere la pena è un po' più utilizzata in un altro modo, quello che stiamo per vedere. E cioè, se valere la pena fa riferimento a tutta la frase precedente, quindi se quello che è conveniente e tutto quello che è stato detto prima, valere la pena sarà utilizzato con la particella NE. Nella forma, NE valsa la pena. Valsa, in questo caso, perché concorda con pena. Ad esempio, possiamo ristrutturare le frasi che abbiamo visto prima. In questo modo, viaggio. Il viaggio in Thailandia è stato lungo e difficile, ma ne è valsa la pena perché abbiamo scoperto nuove culture. Ho fatto molti sacrifici per arrivare qui, ma ne è valsa la pena. Quindi, come vi dicevo prima, in questo tipo di struttura, utilizzando il NE, quello che vale vale la pena è tutto quello che è stato detto prima, l'intera frase, con la sua azione, con il suo proprio verbo. E adesso, vediamo qualcosa che, come vi dicevo prima, può creare difficoltà e dubbi anche agli stessi italiani. Vale la pena o vale la pena di. Infatti, la forma più comune di utilizzare, di vedere, di vedere valere la pena è seguito da un verbo all'infinito, che indica la cosa che è vantaggiosa. Però, il dubbio che molti stranieri e qualche italiano hanno è, si dice, vale la pena fare qualcosa o vale la pena di fare qualcosa? Ebbene, le grammatiche e le massime autorità della lingua italiana sostengono che la forma più corretta sia quella valere la pena di più verbo all'infinito. E infatti, questa forma è molto presente nella letteratura in generale. Per esempio, nel Nome della Rosa di Umberto Eco, troviamo la frase Allora, Guglielmo decise che valeva la pena di non dargli respiro. Oppure, in Castelli di rabbia, Alessandro Baricco dice O ancora, una citazione di Cesare Pavese dice Le uniche donne che vale la pena di sposare sono quelle che non ci si può fidare a sposare. Tuttavia, e questo è il bello, anche la costruzione senza la preposizione di è molto diffusa, sia nell'italiano scritto, sia in quello parlato. Ecco alcuni esempi di citazioni di scrittori Vale la pena piangere solo se di felicità. Nichilismo è sentire che al mondo non c'è nulla per cui valga la pena essere pessimisti. Quindi, insomma, in questo caso sta veramente a voi scegliere quale forma usare. Qui però mi sembra utile aprire una piccola parentesi. Infatti, sicuramente la forma valere la pena di o senza di più verbo all'infinito è molto molto diffusa. Ma quando è necessario esprimere il soggetto, si deve ricorrere alla forma più forte, alla forma esplicita. che valere la pena che più verbo al congiuntivo. Vediamo una differenza. Io posso dire Vale la pena di imparare l'italiano perché è una lingua bellissima. Ma, dirò, vale la pena che voi impariate l'italiano perché è una lingua bellissima. Come vedete, nella prima frase ho utilizzato l'infinito perché era una frase molto generale. Cioè, non c'era un soggetto particolare che doveva imparare l'italiano. Era qualcosa che valeva per tutti. Nella seconda frase, invece, io volevo sottolineare che chi deve imparare l'italiano siete voi. Quindi il soggetto è necessario qui. Non voglio parlare per tutti, ma solo per voi. e per questa ragione devo utilizzare la forma con che più il congiuntivo. Quinto e ultimo errore, problema. Ne vale la pena di. Un errore molto, molto frequente, che sento veramente spesso, è utilizzare le parole. Vale la pena, con il verbo all'infinito, con o senza di, preceduto dalla particella NE. Ne vale la pena di visitare il Giappone. O anche, ne vale la pena visitare il Giappone. Ma, in effetti, queste forme sono sbagliate. La presenza del NE, infatti, quando io ho già la forma con il DI più verbo all'infinito, è ridondante. La forma corretta sarebbe Vale la pena di visitare il Giappone. O Vale la pena visitare il Giappone. Se poi proprio volete utilizzare il NE, potete farlo, ma andando a riformulare la frase, spostando il verbo all'infinito prima. Per esempio, bisognerebbe visitare il Giappone. Ne vale davvero la pena. Quindi, separati sì, ma non insieme. Questo è tutto per questa costruzione verbale. Ma fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato utile, se vi è piaciuto e, soprattutto, se avete delle altre costruzioni verbali, come valere la pena, che vi creano molti problemi. Così posso fare un riassunto di tutti i dubbi e i problemi più comuni, anche con quelle costruzioni. E visto che ci siete, scrivetemi anche nei commenti cosa vale la pena fare l'anno nuovo. Se poi volete sapere quali sono gli errori più comuni commessi dagli italiani quando scrivono e quando parlano, guardate il video dedicato proprio a quell'argomento, che come sempre trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Per qualsiasi altro dubbio sulla grammatica o sulla cultura italiana, non esitate a visitare il nostro sito learnamo.com e non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e di iscrivervi al canale Telegram. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!